... Gentili tre spettatori, ben trovati da Andrea Di Pre, questo è Di Pre per il sociale e oggi devo dire, sono qui con una persona straordinaria Gentili tre spettatori, qui con me c'è Permettete a me stesso di presentare me stesso Mi chiamo Ricky Cagliari In realtà io mi chiamo Austin Powers Pericolo è il mio secondo nome Quello che ti chiede invece adesso è che si fa passare sui piedi e si fa fare un balletto tu perché sapete in modo che anche noi quando è felice lo stiamo in più All my fun Yeah 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 E' straordinario Complimenti ancora Sei immenso Grazie a voi Perché ci siete tantissimi Andrea Di Pre, Austin Powers Grandissimi Grazie 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 Grazie